Attenzione, avvisiamo i viaggiatori che il treno in partenza dal binario 6 non fa servizio viaggiatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione, è pietato attraversare i binari, servirsi del sottopassaggio. Il treno T-86-07-4 DSMCF, delle ore 18 e 29, per GRAS, è in partenza dal binario 1. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione, per motivi di sicurezza, la stazione è sorvegliata da telecamere. I bagagli incustoditi saranno controllati dalla polizia ferroviaria. Attenzione, si rammetta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere, quando non sono completamente fermi. Il treno T-86-06-3 DSMCF, delle ore 18 e 35, proveniente da Cannabook, è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, allontanarsi dalla polizia ferroviaria. Sottopassaggio. Attenzione, allontanarsi dalla polizia ferroviaria. Grazie a tutti 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 Siamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti